Siamo a Bitovistory, in occasione dei festeggiamenti per l'Arduino Day, qua a Torino abbiamo fatto una presentazione sulla domotica open source. Oggi vi parliamo di domotica in ambito open source, soprattutto basata su Arduino e su schede che possono essere facilmente reperite, ovviamente vi parleremo anche di software per gestire la casa e soprattutto anche di come affrontare le varie tipologie di novità che ci sono sul mercato. Grazie. 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 Grazie.